e ha lanciato ConfCommercio contro lo spreco alimentare. Come si diceva una volta, butter via il ben di Dio è un peccato, principio buono e giusto che vale oggi più che mai, in particolare al ristorante dove da uno studio della Federazione Italiana Pubblici Esercizi ConfCommercio i clienti che non mangiano tutto ciò che hanno ordinato producono uno sperpero molto rilevante, un comportamento che va assolutamente modificato come? Beh, semplice. Se non si consuma tutto quello che si è ordinato si può stare tranquilli perché lo si porta a casa con il rimpiattino. Ecco cosa è il rimpiattino, due confezioni che i ristoratori offriranno ai clienti, una per il cibo, l'altra per il vino. Se non si fa cultura sull'argomento non si va da nessuna parte, quindi questa è una bella iniziativa che noi cogoniamo, innanzitutto è un nuovo ristretto di operatori, sono 11 quelli che patiranno con il progetto e dappuriché il nostro obiettivo è quello di allargarlo da tutto il mondo delle restaurazioni vicentine. Oggi i clienti che chiedono di portare via il cibo e il vino non consumati al ristorante sono una minima parte. È una questione culturale, per esempio gli americani non si fanno problemi, basta chiedere ai ristoratori vicentini. Qui a Vicenza è normalissimo avere degli americani a pranzo e a cena e per loro è normale per farsi a casa, è quello che avanza. Non fai conto che anche appena adesso una famiglia se non è appena andata ha portato con sé dei grissini e anche d'acqua. E già per una volta tanto dovremmo fare gli americani anche noi. È una questione etica, morale, per non continuare a sperperare gli alimenti. Così ConfCommercio lancia il rimpiattino. Perché gettare via il cibo? Se è stato impiattato basta rimpiattarlo, no? A tutti i telespettatori noi diciamo chiedete il rimpiattino al ristorante. Va bene, se stanno così le cose aspettiamo il rimpiattino. Ecco questo è il rimpiattino, buon appetito a lei. Grazie. E a tutti i telespettatori.